Riviera 1 in Vialdomore a Montesilvano, due palazzoni di 12 e 10 piani, 250 tra famiglie e alcune attività commerciali. Il 13 maggio 2021 viene firmata un'ordinanza di sgombero per motivi di sicurezza. Una perizia tecnica parlava di crollo improvviso. Qualche settimana dopo, su istanza degli stessi condomini, quattro ingegneri hanno detto l'esatto contrario in un'altra perizia, ovvero nessun pericolo crollo. Il 6 luglio 2021 l'ufficio tecnico del comune conferma che non c'è alcun pericolo. Il giorno dopo però arriva lo sgombero forzoso. Quindi sono iniziati i lavori di ristrutturazione per 18 milioni di euro grazie al super bonus, ma tutt'oggi è tutto fermo. Come dire, un'odissea che dura da oltre tre anni e stasera alle 21 i residenti si ritroveranno per una manifestazione in cui chiederanno risposte concrete. Intanto sentiamo alcune voci. Ogni anno ci viene una specie di gioco del Luca. Ci viene detto che rientremo a marzo, poi a giugno, poi a settembre, poi a dicembre e poi si ricomincia. Adesso ci hanno detto che noi dovremmo rientrare a dicembre 2024, sperando questa volta che sia la volta buona. Quindi abbiamo tutta una serie di domande in evase. Non sappiamo perché siamo usciti, perché dalle prove documentali che abbiamo raccolto in quanto persone direttamente interessate ci siamo resi conto che non c'era nessun pericolo crollo. Poi sono stati spesi 18 milioni di euro. E quindi, ripeto, ci sono tutta questa serie di domande e risposte in evase a cui ci teniamo ad avere risposta in tal senso. Signor Paolo è uno di quelli che ha dovuto abbandonare in tutta fretta casa. Adesso qual è la sua sistemazione attuale? Io in questo momento sono in affitto e ho girato quasi tutta Montesilvano, avevo vari affitti. Ho dovuto affittare un garage per mettere i mobili perché al momento dell'allarme che hanno dato c'è stato il fuggi-fuggi, non c'è stata comunicazione, non c'è stata nulla. Dice il palazzo crolla, c'è stata l'ordinanza cosa e tutti siamo scappati. E poi per chi ha un'attività come Roxana, le perdite sono davvero disastrose, vero? Certo, assolutamente. Noi abbiamo perso tre anni e quattro stagioni di un mancanto economico veramente immenso. Soprattutto così non sappiamo la verità, vorremmo sapere quando possiamo riaprire e i condomini quando possono rientrare nelle abitazioni, perché è veramente un disastro.